I revisori di Banca Tercas come potevano sapere quello che nessuno riferiva loro? Come potevano controllare una cosa come 24 milioni di operazioni all'anno svolte dalla Banca Tercas e molte delle quali ritoccate più volte al giorno? E soprattutto, se le indagini avrebbero accertato che molte di quelle operazioni ritenute spregiudicate e contestate da Banca Italia e dalle quali sarebbe dipesa la maxi perdita del gruppo Tercas non sono state filtrate dai singoli direttori di filiale e mai comunicate, come potevano intervenire i membri del collegio sindacale? La risposta a questi interrogativi va cercata nella recentissima ordinanza a firma del giudice del Tribunale delle Imprese dell'Aquila davanti al quale nei giorni scorsi sono sfilati i legali di tutte le persone finite nell'inchiesta Tercas sotto l'aspetto penale e sotto l'aspetto dell'azione di responsabilità avviata dal commissario Sora per recuperare circa 200 milioni di euro da tutti, indistintamente, revisori o consiglieri d'amministrazione. L'ordinanza del giudice Aquilano segna però adesso un significativo cambio di passo nella vicenda giudiziaria civilistica riconoscendo fondamentale distinguo tra le eventuali competenze e responsabilità di merito di chi faceva parte dei collegi sindacali di Tercas da quelle di chi la banca invece l'ha amministrata nei CDA. Esatto contrario di quanto sostenuto nelle rispettive sanzioni e contestazioni da Banca Italia e dal commissario nell'ultimo anno e mezzo, il giudice ha ritenuto di confermare infatti il sequestro di metà luglio su conti corrente e beni degli imputati soltanto per gli ex amministratori della Banca Tercas e non per i revisori. Tre pagine di ordinanza in cui si sanciscono le sostanziali differenze di ruolo, potere e azione del collegio sindacale nello specifico quello presieduto dal dottor Gianfranco Schenna rappresentato dagli avvocati Sandro e Raffaele Pelillo e composto poi dell'avvocato Luca Di Eugenio e Simona Conte. Sostanziali differenze rispetto a quella che poteva e doveva essere l'azione di controllo in capo a chi sedeva nel CDA sempre che ed è su questo che si giocherà nei prossimi mesi il caso Tercas in tribunale quegli stessi amministratori fossero al corrente delle operazioni spregiudicate che hanno caratterizzato il sistema di Matteo e il tracollo della Tercas.